La Mezzia, sparatoria in centro, fermate due persone per l'omicidio trovato. Ci sono due persone sospettate dell'omicidio e del ferimento di due uomini avvenuto ieri sera in pieno centro cittadino in Piazza Borelli. Nell'agguato che è costato la vita a Luigi Trovato di 52 anni, considerato dagli investigatori vicino ad ambienti di Inzangheta, è rimasto ferito anche il fratello Luciano di 37 anni, anche egli noto alle forze dell'ordine, e una terza persona, Pasquale D'Angela, di 34 anni, che era in compagnia dei fratelli Trovato. I due sospettati sono Antonio Monteleone e Claudio Paola, che sono stati fermati ieri nottata dai carabinieri che hanno eseguito le indagini fin dalla prima ora insieme alla polizia. Secondo quanto è emerso, Monteleone e Paola avrebbero reagito ad un'aggressione ai loro danni da parte delle vittime. I due hanno deciso di costituirsi perché braccati dai carabinieri che li avevano identificati come i responsabili dell'omicidio e del duplice ferimento. Quel che è stato ricostruito finora è che quanto avvenuto ieri intorno alle 19 è stato un vero e proprio agguato di stampo mafioso. La vittima in passato era stata coinvolta nell'operazione Perseo contro la Cosca Giampa insieme al fratello ferito e vicini alla Cosca Giampa sono anche i due sospettati. I killer hanno agito a volto coperto e hanno scaricato almeno 15 colpi contro Luigi Trovato, principale bersaglio, e contro le altre due persone che erano insieme a lui. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata sulla base e soprattutto delle telecamere attive nella zona, gli aggressori hanno atteso che i tre scendessero dall'auto prima di esplodere i colpi per poi di leguarsi a bordo di una macchina. Nell'immediatezza dei fatti sono state sentite alcune persone che si trovavano sul posto nel momento dell'agguato ma, da quanto riferiscono gli investigatori, non avrebbero fornito elementi utili alle indagini. Curinga, esecuzione di dieci misure cautelari per ipotesi di violenze sessuali di gruppo e diffusione di video sessualmente espliciti. Questa mattina i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Girifalco, a seguito di articolate indagini della Procura presso il Tribunale di Lamezia Terme, nonché della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, ha dato esecuzione ad ordinanze applicative di misura cautelari emesse nei confronti di dieci soggetti, fra cui tre minorenni, emesse dai giudici per le indagini preliminari presso i rispettivi tribunali nell'ambito dei procedimenti penali scritti dai due uffici requirenti per ipotesi di violenze sessuali di gruppo, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, sequestro di persone ed altro in danno di un giovane indotto a compiere o a subire atti sessuali in ragione di una sua rilevata disabilità psichica. L'indagine ha preso avvio nella prima decade del mese di novembre scorso, quando alcuni parenti della vittima presentatisi presso la stazione Carabinieri di Curinga avevano consegnato su un supporto informatico un video dal contenuto sessualmente esplicito, diffuso senza il consenso della persona offesa, ed avente quale protagonista la stessa vittima indotta in ragione delle segnalate condizioni di vulnerabilità a subire gli atti sessuali oggetto di ripresa video successivamente divulgata. Immediati contatti con la compagnia Carabinieri di residenza della persona offesa permettevano di identificarla ed acquisirne la volontà punitiva. La complessa attività investigativa portata avanti dai magistrati titolari dei due distinti procedimenti penali, in piena sinergia con l'arma dei Carabinieri di Girifalco si è modulata attraverso nevralgica escussione di persone informate sui fatti, attività tecnica di natura intercettiva, analisi dei cellulari sequestrate agli indagati che ha permesso di inscrivere l'episodio oggetto di originaria denuncia querela in un più ampio contesto di episodi lesivi perpetrati in danno della medesima persona offesa. Nel corso delle indagini è emerso infatti un quadro di gravità indiziaria positivamente apprezzato dai giudici per le indagini preliminari presso i rispettivi tribunali di La Mezzia Terme per i minorenni di Catanzaro, risultando i giovani destinatari delle ordinanze cautelari indiziati di aver avvicinato la vittima, approfittando delle sue debolezze ed in particolare di come la stessa cercasse la loro amicizia per creare attraverso gli stessi episodi delittuosi oggetto di approfondimento investigativo, occasione di goliardico divertimento per il gruppo a discapito delle diverse abilità della persona offesa, che non aveva modo di comprendere le effettive finalità dell'agire dei presunti autori delle condotte ipotizzate in suo danno, trattandosi anche di episodi di natura sessuale che venivano ripresi e divulgati tra il gruppo dei pari. I fatti oggetto dei procedimenti di chiamati, attualmente ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari, si iscrivono in un più ampio contesto operativo finalizzato a far emergere situazioni di prevaricazione fra giovanissimi per contrastare la diffusione, soprattutto ove correlate a forme di vulnerabilità e di disabilità, in modo da contribuire con il presidio ed il dovuto intervento di tutte le agenzie del territorio deputate alla formazione dall'educazione dei giovani, alla diffusione dei valori della diversità e del rispetto delle relazioni sociali, al contempo favorendo la cultura dell'uso consapevole dei social network, spesso invece indiscriminatamente utilizzati dai minorenni e da giovani adulti, senza alcuna forma di controllo nella consapevolezza di come tali canali di comunicazione possano essere strumento per la perpetrazione di reati e comunque per la realizzazione di forme di prepotenze di svilimento dell'altro, con necessità quindi di una presa in carico comune di situazioni quali quella descritta in questo servizio, per arginare anche, mediante la diffusione della cultura del rispetto della sfera altrui, i rischi correlati a tali indebite divulgazioni per Teleionio Bruno Cirillo. Davoli, uccise l'ex moglie e il compagno, sarà sottoposto a nuova perizia. Nuova udienza del processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro contro Giuseppe Gualtieri, 54 anni, condannato in primo grado all'ergassolo per il duplice omicidio dell'ex moglie Francesca Petrolini, 53 anni, e del nuovo compagno della donna Rocco Bava, 43 anni. Il prossimo 23 marzo presterà giuramento il nuovo perito dottore Fernando Roccia, dopo che i giudici hanno accolto l'eccezione mossa dai legali di Gualtieri, gli avvocati Salvatore Stagliano e Vincenzo Cicino, che chiedono una nuova perizia psichiatrica. Nella prima consulenza l'imputato era stato dichiarato capace di intendere e di volere, ma sulla base della consulenza tecnica fornita dal perito di parte Massimiliano Cardamone, i legali di Gualtieri hanno ottenuto dalla Corte l'annullamento della prima perizia, depositata dai periti Salvadori e Paternini. La difesa punta evidentemente al riconoscimento dell'infermità mentale dell'imputato al momento dell'omicidio. Un duplice omicidio efferato che squarciò il sereno trantran dei giorni precedenti a quel tragico Natale del 2018, segnato per sempre dalla morte atroce della coppia Bava-Petrolini, erano circa le 18 del 23 dicembre di quell'anno, quando Gualtieri imbracciò fucile e pistola e fece irruzione nella tabaccheria della Petrolini, situata nel centro storico di Davoli, sparando a bruciapelo contro la 53enne ex moglie e contro Bava. Dopo la separazione da Gualtieri avvenuta circa un anno prima, la donna da qualche tempo aveva ritrovato l'amore con il 43enne, separato, senza figli, proprietario di un autolavaggio e simbario nel Vibonese. Una relazione che l'ex marito, che non si era rassegnato alla separazione, non aveva mai accettato. Gualtieri le aveva reso la vita impossibile, con minacce e persecuzioni, denunciate alle forze dell'ordine. Un'escalation di violenza culminata nell'omicidio. Quel pomeriggio il 54enne sparò contro la donna due colpi, uno la raggiunse alla testa e uno al torace. Per Francesca non ci fu scampo, morì sul colpo. Contro il suo rivale, invece, Gualtieri sparò quattro colpi, sia alla testa che al torace. Ferito gravemente, Bava si trascinò fuori dalla tabaccheria per poi accasciarsi a terra, ormai privo di forze. Qui lo trovarono i sanitari del 118, giunti sul posto per soccorrerlo. Fu inutile ogni tentativo di rianimarlo, l'uomo morì poco dopo. Dopo aver ucciso la coppia, Gualtieri si allontanò dal luogo del delitto, facendo perdere le sue tracce, ma la fuga durò meno di 24 ore. I carabinieri della compagnia di Soverato, che sin dall'inizio avevano concentrato su di lui sospetti e indagini, lo trovarono in casa di un amico. Dentro la sua auto, nel corso di una perquisizione, rinvennero il fucile con cui aveva sparato. La pistola, invece, non fu mai trovata. Gualtieri fu fermato e interrogato davanti al PM, ammise di essere l'assassino dell'ex compagna Edibbava. Ad armare la sua mano, come confessò ai carabinieri e al PM Chiara Bonfadini, che coordinava le indagini, era stata la cieca gelosia verso la donna, che lo aveva lasciato e che aveva deciso di rifarsi una vita lontana da lui, con un altro uomo. In primo grado, il gruppo Matteo Ferrante condannò Gualtieri all'ergassolo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, che al termine della requisitoria aveva chiesto per l'imputato il massimo della pena. Incendiata l'auto dell'assessore a Crosia, indagano i carabinieri. L'auto dell'assessore all'urbanistica del comune di Crosia, Giovanni Greco, è stata distrutta da un rogo. Il fatto è avvenuto la scorsa notte. La notizia è stata diffusa dal sindaco Antonio Russo. Non possiamo che esprimere preoccupazione per quanto accaduto stanotte, scrive Russo, e lanciare un appello forte al prefetto e quindi allo Stato affinché intensifichi i controlli e la presenza delle forze dell'ordine sul territorio comunale. Il sindaco chiede anche che venga portato a finanziamento il progetto di videosorveglianza comunale. L'auto era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Greco e si teme che si tratti di un atto doloso. Qualche giorno fa un'altra auto di un privato cittadino aveva avuto la stessa sorte sull'accaduto indagano i carabinieri. Corruzione assolti ex deputato Aiello e il magistrato Luberto. Il GUP di Salerno ha assolto l'ex deputato del PD Ferdinando Aiello ed il magistrato Vincenzo Luberto dai reati di corruzione, falso e rivelazione di segreti d'ufficio per non aver commesso il fatto. La procura campana aveva chiesto la condanna degli imputati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Secondo l'accusa Luberto avrebbe in qualità di procuratore aggiunto nella procura di Catanzaro omesso di iscrivere Aiello nel registro degli indagati in ragione di un rapporto di amicizia tra i due. Entrambi gli imputati, fa sapere la difesa attraverso una nota, nel corso del giudizio hanno reso lunghi interrogatori dinnanzi al GUP Salernitano, chiarendo tutti gli aspetti della vicenda. I difensori, l'avvocato Vincenzo Belvedere e l'avvocato Mario Papa, con lunghissime arringhe e avvalendosi di atti documentali, hanno ulteriormente evidenziato, si fa rilevare, l'inesistenza delle ipotesi accusatorie e della totale estranetà dei fatti contestati ai due imputati. Scoperto locale di Indrangheta nel Regino, 9 arresti. Un nuovo locale di Indrangheta attivo e confederato alla cosca dei tavermiti di Gero Carne, nel Vibonese, è stato scoperto a stilo, nella Locride, nell'ambito dell'inchiesta Doppio Sgarro, condotta dai carabinieri e coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell'aggiunto Giuseppe Lombardo, il GIP ha emesso nuove ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e due ai domiciliari. I reati contestati sono associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di droga. L'inchiesta coordinata dai sostituti Simona Ferraiolo, ora trasferitasi a Milano, e Domenico Cappelleri è partita dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, raccolte durante le indagini su alcuni episodi avvenuti nell'area dello Stilaro, tra cui l'omicidio di Marcello Geracitano avvenuto nel 2005 e quello di Giuseppe Gerace nel 2012. I fatti di sangue non sono contestati, ma grazie a una rivisitazione di precedenti attività di indagine si è arrivati agli arresti di oggi, con cui i PM hanno disarticolato un gruppo criminale, composto prevalentemente da soggetti legati da vincoli familiari e collegati alla cosca Taverniti. Al centro dell'indagine ci sono le famiglie mafiose dello Stilaro, che secondo il GIP Giovanna Sergi sono interessate a garantirsi il controllo del territorio con la solida metodologia delle imposizioni e decondizionamenti, violenti anche all'attività amministrativa pubblica. C'è anche il boss latitante Fernando Spagnolo, di 67 anni, tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP Giovanna Sergi nell'ambito dell'operazione Doppio Sgarro, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. Spagnolo risulta irreperibile dal maggio 2019 a seguito della condanna all'ergastolo emessa dalla Corte d'Assise d'Appello per l'omicidio di Marcello Geracitano, avvenuto a Stilo il 16 gennaio 2005. Sentenza che lo scorso settembre è stata confermata dalla Corte di Cassazione. Il GIP ha disposto il carcere anche per il figlio del boss Ilario Spagnolo, il nipote Gesen Spagnolo e il genero Giuseppe Furina. Tutti quanti, secondo la DDA, facevano parte della cosca operante a Stilo nella Locride. Sono finiti in carcere anche Cosimo Panetta, Giuseppe Tassone, Cosimo Tassone e Cosimo Leotta. Quest'ultimo è accusato di essere affiliato a Iruga Gallace Leuzzi, storica cosca operante nell'Alto Ionio Reggino, Basso Catanzarese e zone limitrofe. Secondo la DDA, Leotta avrebbe messo a disposizione degli associati i propri immobili per lo svolgimento dei riti di affiliazione all'Andrangheta e rivestito per conto della predetta consorteria criminale il ruolo di riferente territoriale nel comune di Stilo, con la dote di Vangelo. Il GIP ha disposto inoltre gli arresti domiciliari per Francesco Aiello e Diego Tassone. Soverato, Ucraina, i sindaci preparano l'accoglienza. Sul banco delle opzioni l'utilizzo della rete Sprar o in alternativa il recupero degli immobili abbandonati per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina. Ciò che è certo è che l'ambito per le politiche sociali di Soverato vuole muoversi in modo coordinato, chiedendo alla Regione fondi e la possibilità dell'istituzione di unità operativa per realizzare azioni efficaci. I sindaci nell'incontro dell'ambito delle politiche sociali che ha proceduto la marcia per la pace si sono trovati con cordine la necessità di dare risposte a una crisi umanitaria che coinvolge emotivamente i territori che già ospitano immigrati delle zone di guerra da anni, ma manifestano la volontà di farlo date alla mano dopo aver valutato la concreta fattibilità. Il primo scoglio da superare è il coinvolgimento dei privati, i soli che fornendo locali idoni potrebbero garantire la possibilità di ospedare un numero importante di profughi, che in caso contrario dovrebbe essere garantita in immobili comunali che però non avrebbero caratteristiche di abitabilità per lunghi periodi. I sindaci dichiarano poi di aver accolto la disponibilità e la proposta delle scuole sparse sul territorio che sarebbero pronte ad avviare inserimenti di bambini ucraini all'interno delle loro strutture e che avanzerebbero anche l'innovativa idea di poter ricreare delle classi con insegnanti provenienti dalla stessa nazione per offrire un percorso simile a quello interrotto prima della guerra. Tra il dire e il fare c'è però di mezzo la burocrazia, in uno scoglio che non scoraggia comunque i primi cittadini. Di fronte a una situazione di emergenza, ha spiegato il sindaco facente funzioni di sovelato Daniele Vacca, non possiamo rimanere indifferenti. Questi sono territori che già in passato hanno ospitato immigrati, profughi, richiedenti asilo. L'ospitalità fa parte della nostra cultura e abbiamo già avuto la disponibilità di molte famiglie a ospitare chi sta fuggendo dall'Ucraina. È però necessario che ci sia un coordinamento generale dei 28 comuni dell'ambito per avere contezza del numero di profughi che arriverà e dei posti letto che si possono mettere a disposizione. L'incontro di oggi, ieri per chi legge, è il primo confronto a cui ne seguiranno altri. Siamo consapevoli che il tema dell'accoglienza non può però essere trattato solo in emergenza, per cui chiederemo un'unità permanente per organizzare azioni coordinate. La prefettura ci chiede di monitorare le possibilità per realizzare progetti di accoglienza e in quest'ottica ci siamo mossi. Saranno coordinate anche le raccolte dei fondi e beni di prima necessità, che tutti i comuni hanno avviato con una risposta importante e generosa da parte dei cittadini. L'idea è di un centro di smistamento comune e di un coordinamento delle associazioni di protezione civile, religiose e dei privati per far funzionare al meglio una macchina della solidarietà già avviata. Intanto a soverato i sindaci hanno indossato le loro fasce per marciare lungo le strade con le associazioni che hanno deciso di dire il proprio no alla guerra. Una fiaccolata per la pace silenziosa e suggestiva, per commemorare le vittime innocenti di una guerra che si vorrebbe vedere presto finire. Verso una legge sui diritti delle donne, ma la sola enunciazione non basta. Bene l'idea di una proposta di legge regionale per la promozione dei diritti delle donne, meno bene il fatto che si tratti di una mera enunciazione di diritti. Lo ha dichiarato Caterina Vaiti, segretaria confederale CGL Calabria, membro del coordinamento Lottiamo Insieme Unite, sorto tre anni fa che ieri ha prestato le diverse iniziative promosse su scala regionale, messe in campo a sostegno delle donne nell'ambito del calendario della primavera, dei diritti delle donne, per una sensibilizzazione generale sul tema della declinazione dei diritti al femminile, in ogni settore, dal lavoro al welfare e dalla comunicazione di genere alla toponomastica femminile. Non è stato stanziato neppure un euro, ha sottolineato, rispetto alle azioni che vogliono realizzare, rimandando a leggi a riguardo che già esistono, a esclusione di quella sulla parità salariale. Una proposta di legge che la CGL ritiene deficitaria, seppur apprezzabile, nelle intenzioni. Da qui la richiesta di un confronto con la Regione Calabria sulle tematiche delle parità di genere, perché le enunciazioni di principi possono essere riempite di contenuto. Questa legge che il Consiglio regionale si approva, ha spiegato Mimma Iannello, dirigente CGL e presidente di Feder Consumatori Calabria, parla di un percorso solitario fatto dalla Giunta regionale. Sicuramente apprezziamo le buone intenzioni, ma non apprezziamo il fatto che non sia avvertita la necessità di interagire con il mondo della rappresentanza sindacale. Iannello ha rimarcato che se l'obiettivo della legge è quello di creare maggiore occupazione, appare assurdo che non si sia avvertito il bisogno di confrontare questo impianto di legge con le prerogative che sicuramente avrebbero rappresentato le donne e gli uomini del mondo del sindacato unitario e della CGL, in particolare, alla luce del fatto che il coordinamento ha creato una piattaforma che parla proprio di lavoro e di welfare, di diritti negati e di differenze retributive. Lo sciopero proclamato per la giornata dell'8 marzo, ha spiegato Antonella Bertuzzi, segretaria dell'area vasta per la FISAC-CGL, ha un valore simbolico per consentire a tutte le donne di partecipare ma soprattutto per dire che nessun settore lavorativo è escluso dai percorsi di sfruttamento. Esistono per esempio i contratti pirata che vedono coinvolte soprattutto donne perché nei settori degli appalti assicurativi il 90% dei dipendenti sono donne che durante la pandemia non hanno potuto soffrire delle agevolazioni e dei congedi parentali perché lavorando in aziende private non hanno potuto fare i percorsi di altre lavoratrici. Il risultato è che nella maggior parte dei casi le donne hanno scelto di licenziarsi per far fronte alle incombenze legate ai servizi di cura e di famiglia che in quel momento della fase pandemica non potevano essere delegate ad altre figure. Le iniziative promosse dalla CGL iniziano oggi con la Marcia della Pace a Chienavalle e si concluderanno a giugno alla mesia terme con l'evento la CGL sul palco spettacolo e raccolta fondi da destinare in beneficenza. Fra le proposte anche un corso di formazione ricominciamo da noi rivolto soprattutto ai dirigenti uomini a cura del coordinamento formazione CGL nazionale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Gagliato, trasversale delle Serre, 30 anni fa i primi lavori. Torna a farsi sentire la voce del Comitato trasversale delle Serre 50 anni di sviluppo negato. Sodalizio che continua a guardare con attenzione ad ogni passo che in qualsiasi modo possa accelerare il reale completamento dell'intera arteria stradale di collegamento tra le aree dello Ionio Catanzarese e il Tirreno Vibonese. La presa di posizione del Comitato presieduto da Fioravante Schiavello è netta per quanto riguarda proclami ottimistici. Le dichiarazioni di successo e i convegni che sempre secondo il Comitato risalgono agli anni Sessanta. In questo 2022, dice il Presidente del Comitato, corre il trentesimo anno dall'inizio di qualche lavoro e siamo lontanissimi dal completamento. Si può dire infatti che il solo tratto percorribile sia quello tra Gagliato e Spadola, con Bretella Serra San Bruno, che è stato aperto, lo ricordiamo, solo per le ripetute e vivaci insistenze del Comitato. Assicurazioni anche personali, il Comitato non li vede, così come manca qualsiasi attività sul territorio, nemmeno di preliminari progettuali. Il Comitato comprende, prosegue Schiavello, l'esigenza di progetti, intese, firme, conferenze dei servizi e quant'altro richieda l'italica impacciata burocrazia, ma deve costatare che tutte queste teorie stanno procedendo con tale lentezza da far temere l'inizio dei lavori veri per molto tardi e certo non è nell'anno in corso e forse nemmeno nel 2023. Questa è la posizione del Comitato, che rinnovando la protesta insiste sul fatto che qualunque operazione venga condotta con la massima rapidità e senza ulteriori attese. Fioravante Schiavello ha parlato pure di una possibile mobilitare delle popolazioni e del territorio per azioni di protesta e di stimolo dell'affettivo inizio degli appalti. A fare da detonatore il commento della vicepresidente dell'ottava Commissione Lavori Pubblici, la senatrice di Forza Italia, Silvia Vono, che si era soffermata sull'intesa raggiunta tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ed il commissario straordinario dell'ANAS, Francesco Caporasso, per la sottoscrizione del protocollo d'intesa necessario per l'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai primi due lotti della trasversale delle serre, che nello specifico riguardano l'area vebbonese. Montepaone decisa la riformulazione del piano di riequilibrio. Nell'ultima seduta del civico consesso di Montepaone sono stati trattati e approvati importanti punti all'ordine del giorno. In vista dell'ormai prossima approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale, con il solo voto a favore del gruppo di maggioranza, ha approvato le tariffe per IMU e addizionale IRPEF comunale. Come illustrato dall'assessore ai tributi grande, anche quest'anno le tariffe sono state confermate senza subire alcun aumento. Una scelta non scontata data la difficile situazione finanziaria dell'ente. Si è poi passate all'esame del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L'attenzione si è concentrata su due immobili attualmente in disuso, in particolare l'ex mattatoio e l'ex mercato comunale. Il sindaco Mario Migliarese ha confermato che per entrambi i beni si continua a richiedere finanziamenti a Regione e altri enti in grado di far riprendere funzionalità alle strutture. Poi nelle ore successive al Consiglio è arrivata la comunicazione ufficiale che una delle richieste è andata a segno. Infatti il Comune di Montepaone è risultato destinatario di un finanziamento da parte del GAL Serre Calabresi, nell'ambito del piano di azione locale Spes Strategie per Restare. Il finanziamento sarà destinato al recupero dei locali dell'ex mercato comunale. Il vice sindaco Tuccio ha poi reso edotto il Consiglio dell'opportunità offerta dall'ultima legge di bilanzo e dal decreto mille proroghe di riformulare il piano di riequilibrio, già deliberato dal Comune ormai tre anni or sono. Considerato il mutato scenario degli ultimi anni, il vice sindaco Tuccio ha chiesto al Consiglio di procedere alla riformulazione del piano, che dovrà avvenire entro i prossimi giorni. La proposta è stata approvata con i voti del gruppo di maggioranza dopo un costruttivo dibattito. Di particolare rilievo è stata anche l'informativa del sindaco Migliarese sulla situazione della farmacia di Montepaone Centro. L'attuale titolare a breve si trasferirà in altra regione ed era diventata concreta la prospettiva di una interruzione nell'erogazione del servizio farmaceutico. Il Comune, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si è interfacciato con la Regione Calabria, al fine di garantire che la farmacia resti aperta senza soluzione di continuità, sino alla prossima assegnazione. L'amministrazione è pronta ad ogni iniziativa, pur di garantire l'operatività, poiché per il centro storico la farmacia rappresenta un importante presidio di continuità assistenziale, affiancato solo dai medici di famiglia. L'intero Consiglio ha appoggiato le decisioni del sindaco Migliarese, che nei prossimi giorni adotterà un'ordinanza che consentirà alla farmacia del centro storico di continuare ad operare senza subire nemmeno un giorno di chiusura. Bufera sul Parco delle Serre, Movimento 5 Stelle, si proceda con la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo. Si proceda con la nomina del Presidente del Parco delle Serre e solo così si può rilanciare l'ente volto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e non solo delle serre bibonesi, una delle oasi naturali più variegate e prezose della Calabria. L'eurodeputata Laura Ferrara e i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise e Francesco Affritto intervengono sulla mancata nomina del vertice del Parco regionale delle Serre. Non è dunque passata indifferente la denuncia partita dalle colonne del Meridio riguardante, tra virgolette, la vacanza della guida dell'ente di tutela ambientale. Da decenni, sostengono Ferrara e i consiglieri regionali, la mission dell'ente viene meno responsabile di tale carenza e la politica regionale che ha preferito lasciare il Parco nel pantano della mancanza di una guida pur di evitare il confronto e mantenere un potere decisionale, ma fallimentare per le strategie di crescita e sviluppo di quest'area. Da settembre scorso, proseguono, il Parco si trova senza guida, scaduto il mandato del commissario Giovanni Aramini, non c'è stata nessuna nuova indicazione. Per come si legge dalle indiscrizioni sulla stampa locale, la maggioranza regionale di centro-destra starebbe pensando all'ennesima nomina di un commissario, anziché dotare l'ente di un presidente e a cascata degli altri organi direttivi, così da far cessare la paralisi politico-amministrativa che da circa 15 anni soffoca il Parco. In questo momento storico, in cui vi sono importantissime opportunità da accogliere in termini di finanziamenti nazionali ed europei dedicati al patrimonio naturalistico e alla sua promozione per un turismo sostenibile e di prossimità, non si può pensare di lasciare il Parco senza un'amministrazione che possa svolgere il suo ruolo nel pieno delle sue funzioni. È dal 2010 che l'ente è retto esclusivamente da commissari nominati dalla Giunta regionale. Il Movimento 5 Stelle quindi chiede al presidente del Consiglio regionale di nominare con apposito decreto il presidente del Parco regionale delle Serre e al presidente Occhiuto di procedere, così come da sua prerogativa, alla nomina del Consiglio direttivo. Solo così, concludono Ferrara, Tavernise e Afflitto, si permetterà l'avvio di un'attività ordinaria nella gestione del Parco, quindi la possibilità di programmare per il futuro, spendere le tantissime risorse europee, altrimenti a rischio, e rilanciare il Parco così come merita. Per Serra Insieme e Serra al Centro promuovono un'iniziativa comune in difesa dell'ospedale. I movimenti per Serra Insieme e Serra al Centro promuoveranno un'iniziativa pubblica sabato 12 marzo, aperta al contributo di quanti hanno a cuore le sorti dell'ospedale San Bruno, verso il quale non vi devono essere primogeniture nelle azioni a sua difesa. Riteniamo, spiegano gli organizzatori, che il diritto alla salute non debba essere strumentalizzato a fini politici. Il movimento Serra al Centro, con molta responsabilità e rispetto delle istituzioni, ha chiesto al Sindaco di convocare un Consiglio Comunale aperto a tutte le forze positive del territorio, sindaci, forze politiche, associazioni, movimenti, e di mettersi alla testa di una protesta chiara e forte per portare avanti le istanze di una comunità troppo volte messa da parte e per difendere un'offerta sanitaria degna di questo nome. Per Serra insieme al primo cittadino, in quanto Sindaco e Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale, ha chiesto di evitare un continuo polemizzare e di rendere note le prospettive che lui pensa possibili per l'ospedale San Bruno e spiegare le conseguenze rispetto alla scelta da lui condivisa di individuare parte dei locali dell'ospedale come sede della Casa della Comunità e come nuova sede degli uffici del distretto dell'Asp di Serra, auspicando altresì spiegazioni sul perché di un repentino cambio di opinione. Rispetto alle rassicurazioni del Sindaco, che entrambi i movimenti hanno valutato poco confortanti, ribadiranno nel corso dell'iniziativa che ubicare la Casa della Comunità all'interno della struttura ospedaliera sia un errore, nonostante si ritenga la stessa opportunità da cogliere per il territorio. La manifestazione servirà anche a chiedere che nell'imminente piano aziendale in via di definizione e prossima approvazione vengano previsti segnali tangibili di riattivazione in termini di servizi e prestazioni sanitarie da erogare per la tipologia di ospedale che è il San Bruno. L'atto aziendale, chiariscono, non deve essere un mero specchio per le allodole contenente eventuali promesse generate magari dal malessere diffuso che serpeggia tra i cittadini del comprensorio delle serre. L'atto aziendale deve inoltre essere redatto dopo una reale e concreta valutazione del piano di fabbisogno triennale prevedendo per il San Bruno personale, attrezzature e strumentazioni necessarie per poter erogare un adeguato livello essenziale dei servizi sanitari garantendo la sicurezza e l'efficienza per l'utenza e per chi è impegnato a garantirli. Non resteremo indifferenti, concludono i promotori rispetto alla spoliazione del San Bruno ci batteremo, se sarà necessario chiamando tutti i cittadini alla mobilitazione siamo certi che i sindaci del comprensorio a cui riconosciamo grande sensibilità per una tematica così importante si attiveranno per la loro parte con azioni ed iniziative che vadano nella stessa direzione. Intensificati i controlli della polizia nei luoghi della Movida a Catanzaro Sanzioni Nell'ambito dei servizi predisposti dal questore di Catanzaro per contrastare forme di assembramento e accertare il regolare rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 necessari per garantire l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche Nella notte dello scorso 5 marzo personale della squadra di polizia amministrativa della divisione PAS Polizia Amministrativa e Sociale unitamente a personale del commissariato di pubblica sicurezza di Catanzaro Lido e dell'UPG Ufficio Prevenzione Generale e dell'SP Soccorso Pubblico ha svolto un'articolata attività straordinaria di controlli nella popolosa frazione di Catanzaro Lido I controlli hanno interessato le aree caratterizzate dalla presenza di locali ed esercizi pubblici molto frequentati soprattutto da giovani al fine di assicurare si legge in un comunicato stampa della Questura la salvaguardia della sicurezza e della incolumità delle persone e la rispettosa gestione e il corretto andamento della movida In particolare i poliziotti hanno controllato 5 locali accertando la violazione di 4 sanzioni amministrative poiché 4 dei 5 locali controllati propagavano musica all'esterno del locale con DJ set oltre alle 24 orario limite consentito per tale tipo di attività dall'autorità comunale Sono stati anche controllati i green pass dei titolari e dei dipendenti dei locali oltre che a campione dei clienti senza che venisse riscontrata alcuna anomalia Droga viaggiava su un bus con 3 kg di marijuana arrestato nel Regino La Guardia di Finanza di Reggio Calabria in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta del procuratore Regino Giovanni Bombardieri ha arrestato e posto ai domiciliari un 34enne di Ragusa con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti Le indagini dei finanzieri erano state avviate a settembre quando i finanzieri di Villa San Giovanni avevano fermato per un controllo di Routin un pullman proveniente da Napoli e diretto a Catania in quella circostanza il cane antidroga aveva fiutato all'interno del vano portabagagli del bus uno zaino contenente 3 kg di hashish sequestrati in un primo momento nei confronti di ignoti a seguito degli approfondimenti disposti dalla procura i responsabili sono risultati il 34enne ragusano appunto e una 21enne di nazionalità venezuelana indagata in stato di libertà secondo una valutazione della guardia di finanza la droga sequestrata qualora immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 30.000 euro furto in una struttura sanitaria a pizzo rubato pc e due cellulari persone non identificate sono introdotte la scorsa notte nel locale dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della struttura sanitaria di pizzo attualmente trasformata e utilizzata per l'emergenza covid forzando la porta del reparto posto al secondo piano dell'edificio e rubando un computer portatile e due telefonini sul furto indagano i carabinieri i ladri da quelli che si è potuto apprendere hanno avuto facile accesso poiché l'ingresso di quello che doveva essere un ospedale mai realmente entrato in funzione resta costantemente aperto in quanto occupato dalla postazione del 118 ulteriori furti avevano riguardato la struttura appena qualche settimana addietro per Teleionio Salvatore Condito Salvatore Condito Salvatore Condito Rotati o mi �밀 三 v animo Am T な qu t il vis se pa バ b v ania Grazie a tutti.